Dunque, quello che noi cercheremo di fare è di rappresentare, come dice il titolo, tutto Shakespeare in 90 minuti, cioè rappresentare in 90 minuti tutte le sue tragedie, le sue commedie e tutto il resto. È una cosa un po' non semplice da fare e logicamente quello che noi vorremmo fare è cercare di far capire al pubblico che Shakespeare può essere una cosa interessante e anche divertente da vedere, non è una presa in giro, non è una satire delle cose di Shakespeare. Noi cerchiamo e speriamo che il pubblico uscendo dopo aver visto un altro spettacolo dica, beh però vale forse la pena di andarlo a vedere, di guardarlo seriamente, fra virgolette, divertendosi per le sue cose. Siamo Gaspar e Tuturro che lavorano con Maurizio Lombardi, la regia di Alessandro Benvenuti e cercheremo di mettere insieme sia la fisicità di Shakespeare sia le sue parole e il modo che lui aveva di rappresentare le cose, calcolando che va sempre rispettato, lui l'ha scritto qualche secolo fa e noi lo rappresentiamo qualche secolo dopo, ma cercando di mantenere lo stesso spirito. Quindi quello che Shakespeare mi ha detto, venite a vederci.